Buongiorno a tutti. La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti di ASSO Telecomunicazioni, ASTEL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 207 del 2021 e relativo al codice delle comunicazioni elettroniche. Avverto che l'audizione in assenza di obiezioni da parte degli auditi sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio Marzia Minossi, responsabile dell'ufficio regolamentazione e normativa di ASSO Telecomunicazioni per aver raccolto l'invito della Commissione e le cedo la parola, invitandola a contenere l'intervento in un tempo massimo di 5 minuti. Grazie. Sì, grazie. E appunto ASSO Telecomunicazioni è l'associazione della filiera delle telecomunicazioni aderente a Confindustria, giusto per dare un flash di chi siamo. Quindi associamo e rappresentiamo le posizioni di tutti gli operatori di telecomunicazione nel medio principale, più grandi, i fornitori di servizi di assistenza alla clientela, nonché di torri per impianti telecomunicazioni e anche fornitori di tecnologie. Questo schema di decreto che stiamo discutendo quindi è chiaramente di importanza piuttosto rilevante per la filiera che rappresento perché il codice delle comunicazioni elettroniche chiaramente è la norma quadro di riferimento che impronta poi tutta l'attività anche proprio strettamente operativa degli associati ad ASTEL e quindi poi di coloro che sono chiamati anche a realizzare obiettivi molto importanti nell'ambito delle priorità industriali, direi nazionali, come quello della realizzazione delle reti ad altissima capacità su tutto il territorio nazionale. Questo, dicevo, è un schema di decreto molto importante perché va ad intervenire sul codice sfruttando la possibilità appunto di apportare correzioni rispetto all'ultimo intervento che ha recepito il quadro normativo comunitario sulle comunicazioni elettroniche. Possiamo andare quindi a lavorare un po' per differenza rispetto a quello che da allora ad oggi è successo. Perché dico questo? Perché notiamo che rispetto alle attese che anche il settore e la filiera nutrivano su questo provvedimento ci sono delle disposizioni che avremmo gradito, diciamo così, vedere recuperate nel testo che invece ci sembrano mancare. Ci sono sicuramente delle disposizioni che invece valutiamo positivamente perché appunto adeguano il testo a modifiche che nel corso del tempo il mercato ha sperimentato e a cominciare dalle definizioni stesse che vengono inserite nel codice anche se su alcune potrebbe essere utile un affinamento proprio del testo delle disposizioni. Poi io adesso visto che abbiamo un tempo così piuttosto ristretto andrò molto velocemente ma vi lasciamo sicuramente un contributo più di dettaglio che poi articola anche proprio rispetto all'articolato quello che sto dicendo. Quindi dicevo elementi sicuramente positivi, tutto quello che riguarda il recepimento di esemplificazioni intervenute nel tempo e anche il chiarimento di alcuni regimi semplificati a cominciare da quelli relativi all'installazione e alle modifiche degli impianti radiomobili al chiarimento sul potere dell'autorità rispetto alla risoluzione delle questioni di accesso ai condomini per la installazione della rete e all'inefficacia del dinego tardivo di autorizzazione ai vincoli paesaggistici sulle zone gravate da uso civico quindi dall'esenzione da tali vincoli. Per quanto riguarda le disposizioni mancanti invece arriviamo a sospetti diciamo così un po' più critici nel senso che nel corso di questi ultimi anni abbiamo visto tutti l'importanza e la necessità proprio di reti e questo ha fatto sì che alcune norme di semplificazione siano state inserite nei vari provvedimenti presi per emergenze o per l'attuazione del PNRR. Alcuni di questi provvedimenti di semplificazione non ci sembra di averli ritrovati nel codice quindi appunto anche con un'elencazione dettagliata suggeriremmo di recuperare tutto e anche di svincolare dal termine della fine del 2026 quelle norme che sono nell'ambito dei provvedimenti sul PNRR perché sono comunque norme che riguardano la parte autorizzativa e quindi mantenere una stabilità e consentire che il codice delle comunicazioni elettroniche che diventi il testo unico di riferimento per tutto quello che riguarda la disciplina delle autorizzazioni sarebbe un obiettivo fondamentale proprio per consentire agli operatori di operare in una maniera uniforme sul territorio nazionale ed in modo tale da avere un'unica raccolta di norme che serva e che abbia un'utilità appunto anche per il confronto quando serve sul territorio con l'ente locale in modo da avere un compendio di tutte le norme che sono applicabili. Quindi in questo senso recuperare anche appunto queste norme che non ci sembra appunto che siano stati recuperate ancora. Un altro elemento che potrebbe essere utile è esplicitare che cosa succede nel caso di mancata attivazione della conferenza dei servizi visto che oggi appunto il processo autorizzativo sostanzialmente parte dalla richiesta dell'operatore e alla richiesta dell'operatore entro cinque giorni deve essere attivata la conferenza dei servizi poi matura dopo un certo tempo il silenzio assenso capire se la conferenza dei servizi non viene attivata sostanzialmente implicitamente si ritiene che il silenzio assenso maturi lo stesso ma se ci fosse una norma esplicita questa sicuramente aiuterebbe così come aiuterebbe avere un termine uniforme a 60 giorni invece di un termine diverso per reti mobili e reti fisse come accade oggi che vedono 60 e 90 giorni. Questo per quanto riguarda le norme mancanti diciamo così. Un ultimo flash sulle norme mancanti riguarda un chiarimento che potrebbe essere opportuno sulla responsabilità degli operatori per quanto riguarda le prestazioni di giustizia perché la norma come è formulata attualmente sembra ricondurre delle responsabilità in capo agli operatori anche nel caso in cui la richiesta riguardi il contenuto di comunicazioni che non sono nella sfera di responsabilità dell'operatore ad esempio forniti da terzi tipicamente gli OTT l'esempio tipico è la comunicazione whatsapp. L'operatore telecomunicazioni non ha proprio tecnicamente gli strumenti per intercettare come ha invece su un sms per dire quindi lì dovrebbe essere chiarito questo aspetto della responsabilità. Per quanto riguarda le norme che invece sono presenti nel codice ci sono direi due punti di imputazione principale di alcune criticità. Uno riguarda l'intervento sull'insediamento per gli impianti radiomobili perché proprio nel testo utilizzato ci sono delle locuzioni e dei termini che potrebbero riaprire questioni interpretative che hanno invece già una giustizia prudenza consolidata alle spalle e faccio in particolare riferimento al punto dove si cita la possibilità per regioni antilocali di fare limitazioni su zone rispetto appunto alla possibilità di installare gli impianti radiomobili. Ora nella normativa attuale quella di radioprotezione la 36 del 2001 anche in seguito agli ultimi interventi realizzati insomma negli ultimi anni è specificato che queste limitazioni possono essere applicate a siti sensibili e quindi sarebbe più opportuno da un lato forse citare direttamente la legge 36 del 2001 senza utilizzare locuzioni che la richiamano tipo quello della protezione dalle emissioni elettromagnetiche far riferimento semplicemente al set normativo completo e sicuramente utilizzare il termine siti piuttosto che quello di zone perché appunto quello relativo a siti ha un'interpretazione già chiara e questo ci consentirebbe appunto di definire un quadro che è coerente con l'insieme del quadro normativo nazionale e di immediata interpretazione e quindi applicabilità. L'altro grande punto diciamo di imputazione di criticità se vogliamo riguarda la modulistica che viene utilizzata appunto dagli operatori per richiedere poi le autorizzazioni un po' perché da un punto di vista formale viene previsto nella norma che debba essere utilizzata la modulistica prevista dal comune e in mancanza si fa riferimento all'allegato del codice. Ora sicuramente è un elemento positivo che ci sia l'allegato del codice perché fa chiarezza su quelle che sono le informazioni rilevanti ai fini dell'autorizzazione di un'opera di telecomunicazioni che chiaramente è un'opera che rispetto a interventi edilizi sul territorio incide meno. L'elemento che dicevo negativo è che questo sembra un po' uno strumento residuale. Ora noi eravamo già arrivati diciamo con la riforma volgarmente detta madia della pubblica amministrazione a parlare di una modulistica unificata. Questa modulistica unificata in realtà non ha mai visto la luce per il nostro settore però insomma sarebbe utile avere comunque un elemento unificante sul territorio quantomeno per le modalità con cui le autorizzazioni vengono richieste anche perché appunto le tecnologie sono sostanzialmente quelle che vengono messe poi diversamente dove è necessario per coprire tutto il territorio nazionale con le reti con le reti di telecomunicazioni quindi potrebbe essere uno strumento semplice ma molto importante per superare la frammentazione poi delle regole e anche delle prassi sul territorio. un altro aspetto Sì sì guardi allora l'ultimo passaggio che volevo citare riguarda il fatto che abbiamo visto che nella relazione di accompagnamento viene citata l'eliminazione del deposito del collaudo statico ma poi non l'abbiamo ritrovata nel testo ovviamente essendo una semplificazione insomma spiegheremmo che fosse recuperata anche nel testo del decreto. Grazie Chiedo ai colleghi se c'è qualche domanda qualcuno che vuole intervenire fra i colleghi? Collega Longi Grazie Presidente io ringrazio la dottorezza Minozzi per questa relazione che è sicuramente utile ben comprendere maggiormente comprendere quello che è il quadro generale e quelle che sono un po' le necessità perché sicuramente è un testo molto tecnico e anche a volte a tratti di difficile interpretazione per chi come noi insomma facciamo politica e non siamo dei tecnici quindi che benvengano i confronti per collaborare tutti assieme alla correzione migliore che ci possa essere su questo testo. Grazie Perfetto grazie allora ringraziamo di nuovo la dottoressa Minozzi per la sua presenza e per la sua relazione Grazie Allora buongiorno proseguiamo con l'audizione informale dei rappresentanti della coalizione del Cloud and Fixed Wireless Access. Avverto che l'audizione in assenza di obiezioni da parte degli auditi sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio Enrico Boccardo presidente della coalizione accompagnato dalla vicepresidente Sara Servili e da segretario generale Dario Denny per aver accolto l'invito della commissione e cedo la parola invitando a contenere l'intervento in un tempo massimo di 5 minuti. Prego. Questa è la prassi. Innanzitutto vorremmo ringraziarvi per averci dato questa opportunità di essere uditi in questa commissione. Io sono Sara Servili vicepresidente, sono qua con Enrico Boccardo e Dario Denny presidente segretario della coalizione del Cloud and Fixed Wireless Access. Questa coalizione è nata e continua a rappresentare l'intera filiera dell'FUA, cioè dell'internet senza fili, cioè rappresentando tutte quelle aziende che portano ogni giorno, si impegnano ogni giorno a portare internet nelle nostre aree bianche. In questa coalizione non fanno parte solo gli operatori internet infatti, ma anche i sistema integrator, i tower operator, i cloud service provider e anche i fornitori di apparati. La coalizione coalizione vuole oggi portare un contributo facendo presente soprattutto le necessità di alcuni territori in cui noi operiamo, quei territori che spesso non sono raggiunti da internet a banda larga dai grandi operatori e non sono raggiunti ad oggi neanche dalle reti realizzate con gli aiuti di Stato. Per questo lascio la parola al Presidente. Grazie. Allora, visto il tempo esiduo, andrò solo per i sommi titoli. Volevo incominciare con la richiesta di poter integrare la parola wireless ogni qualvolta si parli di rete mobile e rete fissa. Questo perché il codice è nato nel 2003 e quindi al tempo c'erano solo reti fisse e reti mobile, fisse ADSL, quindi in rame. La rete FWA è nata nel, possiamo dirlo con decreto Landolfi, ottobre 2005, dove ha liberalizzato un set di frequenze. E di lì siamo nati noi operatori FWA. Quindi, dato che ormai questo codice ha più di 20 anni, è necessario aggiungere anche la nostra quota parte, poiché, a detta dell'osservatorio dell'Agicom, ormai abbiamo raggiunto quasi 2 milioni di linee su 20 milioni. Mi soffermo come secondo punto sugli obblighi e le sanzioni racchiuse all'interno del codice. Si è raggiunto, dopo tanto tempo, per i piccoli operatori, al pagamento dei diritti amministrativi in modo proporzionale. Questo però non avviene nella parte delle sanzioni, dove ci sono delle sanzioni molto alte, anche alte per gli operatori big e nazionali, ma in particolare per noi piccoli operatori, dove fatturiamo qualche milione di euro, ci sono delle sanzioni che vanno da 240 mila a 5 milioni. E questo vuol dire far chiudere gli operatori, piccoli operatori, se in qualche modo incappano in una sanzione. Perché io credo che le sanzioni siano volte non per chiudere un'azienda, dove dietro un'azienda ci sono dei dipendenti, a loro volta ci sono dei familiari di questi dipendenti, ma per bloccare, eliminare un qualche illecito che ci possa essere stato per questa sanzione. E quindi si richiede, come per i diritti amministrativi, trovare una forma di proporzionalità sulle dimensioni dell'azienda. Mi soffermavo sulla parte relativa agli obblighi. Ogni anno noi abbiamo un obbligo in più. Questi obblighi, anche questi obblighi, sono dati in modo non proporzionale. Lo stesso obbligo ce l'ha Teleconitalia, lo stesso obbligo ce l'abbiamo noi piccoli operatori. Per esempio l'ultimo è quello dove c'è alla ribalta di tutti i giornali, quello riguardante all'antiperateria di Agicom. Entro il 31 gennaio dobbiamo tutti gli operatori aderire a questa piattaforma per bloccare entro 30 minuti qualsiasi indirizzo P o sito web che trasmette una partita a modo piratato. Ecco, la sanzione, l'obbligo fatto a un grande operatore ha un piccolissimo impatto. L'obbligo fatto per un piccolo operatore ha un grande impatto, anche perché queste partite sono sempre di sera, barra notte, lungo la sabata e la domenica. E quindi vuol dire reperibilità personale a disposizione di questi blocchi. Che poi se non vengono eseguiti, non eseguiti correttamente, si incappa nelle sanzioni. E quindi ancora peggio. L'ultimo punto che voglio portare all'attenzione è quello riguardante all'articolo 54 del codice, dove si dice che è il divieto di imporre altri oneri, oltre a quello che si è definito cosiddetto canone unico. Quando si è definito il canone unico, che stiamo parlando del 2020, si è introdotto perché si voleva dare in qualche modo un aiuto agli operatori mobili per estendere la propria rete, che vuol dire circa un raddoppio, anzi per 10 il numero delle BTS, per avere una copertura su tutto il territorio nazionale. E quindi si è identificato un canone di occupazione solo pubblico di un valore di 800 euro. Non pensando che questo canone qua andava anche sulle nostre infrastrutture, sulle nostre infrastrutture specialmente quelle in digital divide, nei cluster C e D. E questo ha impattato che da quando siamo nati avevamo un canone a zero. Adesso paghiamo 800 euro, che è stato rivalutato con l'ISAT a 900 e tra un po' arriverà a 1000. E questo comporta che alcune impostazioni diventano non più economicamente sostenibili. Quindi chiediamo in questo caso qua che venga anche ripatronizzato sulle postazioni escludendo quelle dei piccoli operatori, specialmente nelle zone in digital divide. Proporzionando sotto i 5 watt vengono esclusi. 5 watt vuol dire un watt è un'erogazione di potenza di un cellulare quando stai trasmettendo con una telefonata. Quindi proprio ridicoli. L'ultimo, sempre riguardante all'articolo 54, è quanto siamo che non si dovrebbe imporre altri oneri per quanto riguarda i contatori di energia elettrica. Se voi sapete, la vostra bolletta è composta dalla parte energetica, la parte energetica del trasporto, la parte energetica della distribuzione e poi ci sono i canoni dei servizi di vendita, gli oneri di sistema, l'IVA e le accise. Questa quarta parte qua, specialmente per le nostre piccole postazioni, Cuba dal 45 al 60% della bolletta. Dato che dal prima della pandemia avevamo un prezzo e adesso anche se è sceso, non è sceso meno del raddoppio della bolletta iniziale, questo insieme al canone unico sta portando alla chiusura di alcune postazioni che servono semplicemente delle case sparse. Quindi noi chiediamo che per questi casi qua venga applicato l'articolo 54 che non c'è possibilità di una doppia imposizione per questa tipologia. Anche perché questi contatori servono unicamente per queste PTS, non c'è altre unità. Grazie. Grazie per la relazione. Chiedo se qualche collega... Sì, grazie Presidente. Io ringrazio i rappresentanti del CFWA perché sia per il loro contributo che stanno apportando oggi in questa audizione, ma anche per tutto quello che è il lavoro che dietro le quinte i piccoli operatori fanno, garantendo ai cittadini che risiedono nelle zone bianche di essere connessi e il grande lavoro che comunque avete fatto anche nei periodi del Covid attraverso i vostri apparati ubicati nelle zone più remote, in mezzo ai boschi. Quindi diciamo noi di questa Commissione conosciamo bene quello che è questa realtà che va sicuramente valorizzata e che deve comunque garantire anche dei livelli occupazionali che appunto nel vostro comparto non sono indifferenti perché ci sono gli operai, gli operatori, i tecnici, è tutto un indotto che chiaramente va salvaguardato. Quindi io vi ringrazio e vi chiedo anche di depositare la vostra relazione con i vostri spunti di cui ne faremo tesoro e vi auguro di tenere duro e continuare nel vostro lavoro. Grazie. Grazie. Grazie collega. Allora ringraziamo i rappresentanti della coalizione CFUA per la loro presenza. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie signor Presidente, grazie onorevoli deputati, cercheremo di essere brevi come richiesto anche perché la materia su cui siamo chiamati a interloquire è una materia molto tecnica, con tante complessità e anche di esposizione, preferiamo che i dettagli vengano osservati se possibile. Le chiediamo questo al Presidente, agli onorevoli parlamentari e alla luce anche di quanto abbiamo messo a punto in un testo scritto, già inviato penso, non so se è già in distribuzione ma l'abbiamo inviato poco prima di arrivare qua perché dovendo fare tanti richiami ad articoli con richiesta di intervenire su una parola magari diventa complicato nell'esposizione orale dire tutto. Chiaramente noi questo provvedimento in esame ci interessa in quanto operatori del settore radio televisivo, non direttamente operatori di rete ma in alcuni casi costretti a fare anche operatori di rete o comunque abilitati a svolgere operazioni che sono di operatori di rete pur facendo gli operatori televisivi. Questo lo avvertiamo soprattutto nel settore radiofonico in particolare ma anche spesso nell'ambito della televisione. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, lo dico in termini di carattere generale, che sia garantito un ambiente tecnologicamente neutrale e che sia soprattutto avviato un grande processo di semplificazione amministrativa per il rilascio dei titoli di autorizzazione per esempio, per la modalità di richiesta di rilascio dei titoli, per la riduzione degli ogni amministrativi a carico degli operatori. Questi sono alcuni punti proprio diciamo base dal punto di vista della cornice. Dal punto di vista pratico e concreto noi chiediamo per esempio che ci siano delle modifiche per esempio all'articolo 44,2, l'autorizzazione per l'installazione degli impianti. Chiediamo qui che ci sia una semplificazione soprattutto aprendo la strada perché si parla di portali e altri. Non sempre tutto funziona sul piano della digitizzazione avanzata nel rapporto con i vari enti con i quali dobbiamo interloquire per il rilascio delle varie cose. Chiediamo che si sia abilitata per esempio anche la posta elettorica certificata. Sembra banale, sembrava essere una cosa normale, ci dobbiamo chiedere che ci sia. Così come dobbiamo chiedere che sia immediatamente una volta presa la domanda reso noto chi è il titolare del procedimento. Di modo che la pratica possa essere seguita e gestita anche dall'interessato perché si tratta di garantire in contemporanea dei servizi. Sono servizi di informazione, servizi di diffusione comunque di un'attività legata appunto alla comunicazione. Quindi ci sembrano cose semplici ma c'è bisogno di un intervento, di un intervento che entri quindi dentro il testo nuovo che si va a predisporre. Il tema della larga, quanto c'è sulla banda larga, mobile, anche lì chiediamo di poter accelerare gli investimenti e quindi chiediamo che per il completamento delle reti si possano accelerare tutte le procedure relativi agli investimenti per l'installazione degli apparati per esempio. E anche qui sempre il ricorso, la possibilità di ricorrere al portale telematico è in alternativa alla posta elettronica certificata. Questo lo troverete in tutti i passaggi, la richiesta diciamo di includere, di stendere negli elementi di procedure l'utilizzazione della posta elettronica certificata. Anche nella compilazione dei modelli, nella predisposizione dei modelli di domanda, chiediamo per esempio che al modello A e B del legato al 12 bis, si è aggiunta anche la parola a quella del concessionario del assegnatario del diritto d'uso, nel campo dell'audiovisivo è vigente la realtà dell'assegnatario del diritto d'uso. Ecco, quindi tutte queste specifiche noi le abbiamo volute segnalare perché portino a far funzionare in maniera non solo celere ma efficiente tutto il sistema. Sul sistema radiofonico digitale in particolare poi facciamo alcune osservazioni specifiche perché ormai abbiamo orientato il sistema ad andare verso il DAB+, quindi la digitalizzazione della radiofonia in una prospettiva, non sarà brevissima, ci verranno 10-15 anni di poter andare anche oltre l'FM perché chiaramente finché non ci sarà la copertura non potremo mai abbandonare la modellazione di frequenza, ma il DAB+, è una risorsa, non l'unica certamente, per la diffusione stabile del segnale e quindi delle voci e quindi la messa in onda delle trasmissioni in un ascolto facilitato e sicuro e per fare questo c'è da fare delle infrastrutture importanti, in altra sede non è questa la sede ma abbiamo detto che serve anche che lo Stato interviene per esempio perché il DAB possa farsi anche nelle aree più disagiate di montagna e delle gallerie, lì non lo può fare solo il privato operatorio, ci dovrà essere anche un intervento pubblico ma noi pensiamo al DAB per l'ascolto della radio per esempio in macchina, in mobilità e questo ha bisogno di una copertura di impianti idonei che possono svilupparsi in una maniera semplificata che non vuol dire che non vogliamo i controlli, vogliamo dire per esempio laddove c'è già un impianto per esempio, quell'impianto se dobbiamo adeguarlo, lo si considera non come un impianto nuovo ma come un impianto che si va adeguare, se mai si vada a misurare, se ci sono emissioni diverse ma non si deve restare lì con una serie di giorni di attesa indefiniti per la soluzione della pratica o per sapere se devo apportare dei correttivi. Laddove ci sono variazioni sostanziali e qui per passaggio alla tecnica digitale noi chiediamo di precisare che le tipologie di variazioni siano indicate precisamente quelle che effettivamente sono sostanziali ma se non sono sostanziali che si possa andare avanti diciamo con una certa agilità. Chiediamo poi sui contributi che occorre pagare per i contributi per i diritti amministrativi che ci sia una moratoria mi pare di 10 anni, dico bene direttore se non sbaglio, che era prevista in origine e che adesso non si capisce se è confermata o meno, se non fosse confermata andrebbe chiarita. Infine l'obbligo della dotazione di un apparato per la registrazione del radio digitale su tutte le categorie dei veicoli oggi ce l'abbiamo e quindi questa è una novità aggiuntiva specifica del nostro settore oggi quest'obbligo esiste per le auto di categoria MN diciamo così che sarebbero le automobili più avanzate di mettere su tutte le categorie quindi anche sui camion, anzi forse serve ancora di più lì e sui mezzi pubblici perché avere la radio sempre disponibile per chi viaggia è anche un servizio di pubblica utilità e corrisponde anche ad un'esigenza di sicurezza e penso alla sicurezza del traffico ma anche alla sicurezza rispetto ai interventi di eventuali emergenze che dovessero capitare. Altri elementi tecnici diciamo così specifici sono nel documento quindi mi fermerai qui perché forse ho già superato il tempo. Grazie. Allora ringrazio. Collega Longi prego. Grazie Presidente, grazie ai rappresentanti di Confindustria e Radio Televisioni che ci hanno anche esposto il loro punto di vista diverso per certi aspetti rispetto a chi vi ha preceduto sono comunque comuni degli elementi che sono emersi dalle audizioni fin qui consumate prima fra tutte la semplificazione dei processi che è comunque uno degli obiettivi di questo governo e dell'intero piano sulla digitalizzazione quindi sicuramente sarà un aspetto fortemente attenzionato così come lei ha citato alcuni articoli che sono comuni anche ad altri operatori del settore sui quali avremo cura di intervenire nel modo migliore possibile. Grazie. Grazie collega Longi e ringraziamo quindi i rappresentanti di Confindustria e Radio Televisioni per la loro presenza. Grazie. Ci sentite? Molto bene. Perfetto, allora cominciamo. Allora proseguiamo con l'audizione informale di rappresentanti della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, AIAD. Avverto che l'audizione in assenza di obiezione da parte degli auditi sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio Carlo Festucci, segretario generale di AIAD, accompagnato dal membro del Comitato Direttivo Cyber, Antonio Ianna Morelli. Per aver raccolto l'invito della Commissione gli cedo la parola, invitandolo a contenere l'intervento in un tempo massimo di 5 minuti. Grazie, vi cedo la parola. Buongiorno Presidente, sono Carlo Festucci, cercherò anche di farvi guadagnare tempo. Noi vorremmo ragionare intorno all'articolo 57 del codice, in quanto questo articolo 57 dal nostro punto di vista altera fortemente il mercato, quindi diventa un problema molto serio. Nel merito io darei la parola per farvi guadagnare tempo al membro del Consiglio del nostro gruppo di lavoro della Cyber, in modo tale che entri direttamente nel merito e quindi accorciamo un po' la discussione. Grazie. Grazie a voi. Grazie Presidente, come ha detto il nostro segretario generale, noi ci aspettiamo un vostro intervento al fine di ottenere una modifica dell'articolo 57 del codice ed in particolare la normativa sulle prestazioni obbligatorie in relazione ai criteri che il codice dà ai ministeri per fare il decreto attuativo che disciplina nel dettaglio le prestazioni rese nei confronti delle autorità, come quelle ad esempio di intercettazione telematica. Ad oggi la normativa che è in proroga prevede che sia gli operatori delle telecomunicazioni, come diceva la collega di Astel prima, ma anche i fornitori di applicazioni, siano tenuti a trasmettere i contenuti delle comunicazioni, così come trasmessi o ricevuti dal bersaglio a prescindere dalla tecnologia di criptografia utilizzata. Ad oggi questa è una cosa che non è più possibile, perché la criptografia end-to-end, che è diventata uno strumento attualmente in uso a WhatsApp, a Teams, anche a questa soluzione che stiamo utilizzando in questo momento, non prevede la possibilità che il fornitore di applicazioni e l'operatore di telecomunicazioni abbiano le chiavi per decrittare i messaggi, che invece sono per questioni di sicurezza detenute esclusivamente dagli utenti. Quindi ad oggi questa è una prestazione che è tecnologicamente impossibile. Qual è il grave problema a livello di mercato a cui faceva riferimento il nostro segretario generale? Le prestazioni obbligatorie si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti che sono presenti sul territorio nazionale. Quindi se un soggetto opera questi servizi o fornisce queste applicazioni dal di fuori del territorio nazionale senza la presenza di infrastrutture sul territorio nazionale non è soggetto alle prestazioni obbligatorie e quindi non essendo soggetto a queste prestazioni obbligatorie non è neanche soggetto a eventuali sanzioni qualora non fosse in grado di provvedere. Quello che noi chiediamo è che voi richiamiate il governo innanzitutto a non richiedere prestazioni obbligatorie non possibili sotto il profilo tecnologico o comunque a prevedere che non si può essere sanzionati se uno non adempie, non perché non vuole adempiere, ma perché non è nelle capacità tecnologiche di adempiere e sia ovviamente in grado di dimostrarlo. E che dall'altro lato questo non determini una discriminazione di mercato. Vede signor Presidente, vedete signori membri della Commissione, l'industria della difesa in Italia è stata sempre all'avanguardia nell'ambito delle comunicazioni sicure. I più grandi player del nostro mercato sono leader nell'ambito delle comunicazioni criptate delle quali forniscono ovviamente le forze dell'ordine, le forze armate in Italia e all'estero. Purtroppo questa norma impedisce che tutti questi operatori possano fare un grande investimento all'interno di un mercato civile nazionale che ormai è assolutamente non solo sviluppato ma totalmente occupato da operatori stranieri. Questa nostra videochiamata è criptata end to end ed è criptata end to end da un operatore straniero. Oggi non esiste sul marketplace dell'Agid una soluzione di videoconferenza qualificata ai più alti livelli di sicurezza che sia italiana o operata dall'Italia. Il motivo è anche la presenza di questa norma che va assolutamente modificata. Grazie. Grazie a lei per il suo intervento e anche per la brevità. Chiedo appunto ai colleghi se qualcuno vuole intervenire. Chiedo poi di avere la parola al collega Amici. Grazie Presidente. La tematica che avete... Innanzitutto ringrazio per la presenza della Federazione AIAD. La domanda era inerente alla tematica che avete trattato. Tematica che è stata trattata anche in apertura dalla dottoressa Minozzi di Astel. La posizione vostra rispetto alla modifica dell'articolo 57 è identica oppure si differenzia rispetto all'associazione che abbiamo sentito in apertura? Collega Caso... Collega Caso... Ovviamente... Scusate, prima sentiamo i colleghi e voi rispondete al termine. Collega Caso... Grazie. Dato che in questo momento si stanno affrontando molte questioni per alzare il livello di difesa cyber del nostro sistema paese, c'è un decreto di cui si stanno in questione. La cosa che volevo chiedere è questa. se questo aspetto di discriminazione che stiamo vedendo da un determinato punto di vista che attiene alla difesa, all'aspetto della crittografia e questa presenza di norme impossibili che portano poi con tutta una serie di conseguenze in termini proprio di discriminazione di mercato riguardano solo questo articolo o anche altre parti dell'ordinamento e se poi, se ci fosse un orientamento diverso da parte del governo quali potrebbero essere le conseguenze in termini industriali, occupazionali anche per quanto riguarda le imprese italiane? Prego, se volete intervenire per la replica. Grazie. Sì, allora ringrazio l'onorevole Amici per la domanda. In effetti sì, ASTEL abbiamo una visione che ovviamente in parte è la stessa. Noi aggiungiamo un elemento, cioè la collega di ASTEL giustamente ha detto bisogna esentare gli operatori delle telecomunicazioni dalla responsabilità. Giusto, ma attenzione, ricordiamoci che le prestazioni obbligatorie in questo caso non riguardano solo gli operatori delle telecomunicazioni ma anche i fornitori di applicazioni, ok? Quindi i produttori di applicazioni tipo la videoconferenza, tipo il Whatsapp. Quindi sì, giustamente ASTEL chiede di esentare gli operatori e ci mancherebbe altro, siamo d'accordo anche perché ci sono operatori delle telecomunicazioni che fanno parte anche di IAD e condividiamo la loro posizione. Vi richiamiamo sul fatto che questo specifico obbligo, questa specifica parte del codice non riguarda solo gli operatori ma anche i fornitori di applicazioni e poi c'è un termine particolare, risorse utilizzate dall'utente che significa non solo quindi le applicazioni digitali ma anche ad esempio quegli strumenti che sono le cifranti. Le cifranti normalmente sono utilizzate in ambito militare ma ultimamente anche molto da soggetti civili, pensiamo alle banche e in IAD ovviamente c'è la grande capacità di costruire non solo applicazioni digitali ma anche più tradizionali applicazioni hardware e anche queste sono colpite dalla norma quando vanno su un'applicazione di tipo civile. Ripeto, una roba che quando è stato fatto il vecchio codice non era assolutamente comune e diffusa oggi invece la gran parte delle comunicazioni che noi facciamo sono comunicazioni criptate o che richiedono la criptografia quindi solo noi, solo il nostro comparto è escluso dall'interesse imprenditoriale di poter perseguire questo mercato. Per quello che attiene a, se facciamo riferimento a parti oltre l'articolo 57 direi di no, per noi quello è il problema. Faccio un esempio per cercare di spiegare o dare una spiegazione alla domanda che ci è stata fatta. Oggi quando io parlavo di mercato drogato ne parlo in questo modo se io voglio avere una certezza della cifratura dei miei interessi, delle mie comunicazioni, di quello che è con una norma per come è prevista l'articolo 57 io devo rivolgermi necessariamente a un soggetto estero perché è l'unico che garantisce che poi non darà le chiavi della cifratura. Questo è tutto evidente che va a alterare il mercato perché se questa è la logica dal nostro punto di vista non ci sarà nessuno che acquisirà cifraturi da parte nazionale. Io capisco l'esigenza da parte della sicurezza dello Stato di poter avere invece la possibilità di intervenire su intercettazione e quindi avere le chiavi di cifratura e però questo deve essere fatto senza mettere in difficoltà le aziende perché sennò diventa un problema. Spero di essere stato chiaro, l'ho fatta sintetica e non volevo che le risposte fossero più lunghe dell'introduzione. Gentilissimi, grazie, molto chiaro. Quindi vi ringrazio per la vostra relazione e dichiaro chiusa questa parte dell'audizione. Grazie. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera. Allora, proseguiamo con l'audizione informale di rappresentanti di Infratele Italia S.P.A. Avverto che l'audizione in assenza di obiezioni da parte degli auditi sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio Alfredo Maria Becchetti, Presidente di Infratele Italia per aver raccolto l'invito della Commissione. Gli cedo la parola, invitandola a contenere l'intervento in un tempo massimo di 5 minuti. Grazie a lei la parola. Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati e deputati. Infratele Italia è una società che nasce nel 2005 ha l'obiettivo di creare infrastrutture di banda larga e ultralarga in tutto il Paese per la realizzazione di infrastrutture di rete di telecomunicazioni. Attualmente Infratele è l'organo attuatore dei piani di intervento pubblico in accordo con un programma con il MIMIT già fatto con il Ministero di Sviluppo Economico, oggi MIMIT e con una convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale. La mission principale di Infratele, come sarà sicuramente a voi noto, è quella di portare a termine alcuni piani fondamentali principalmente il piano 1 giga, cioè il piano con il quale viene fatta la mappatura completa di tutti quanti i civici italiani per portare la rete almeno a 1 giga in tutti quanti i territori italiani in particolar modo in quelli cosiddette aree bianche, cioè in quelli a difficoltà di mercato il piano 5 giga che è un piano di rete wifi e principalmente i piani scuola connessa, sanità connessa e il collegamento con le isole minori. La premessa è necessaria per comprendere l'importanza che dà la società a questo grande lavoro che sta facendo questa Commissione sul codice delle comunicazioni elettroniche perché all'interno di questo atto governativo esistono due o tre tematiche di particolare rilevanza. Il primo è quello relativo alle modifiche dell'articolo 22 in tema di mappatura. Una delle condizioni necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea è la mappatura della disponibilità di connettività in banda ultralarga soprattutto per le zone a fallimento di mercato, quelle che si chiamano zone bianche. Riteniamo particolarmente importante che questa mappatura venga portata a termine nei tempi previsti e a tal fine la posizione di infratella è questa, la riduzione del periodo di aggiornamento della mappatura, cioè la modifica dell'articolo 22,1 di questo atto risulta meglio in linea con la dinamica del mercato e consente di tenere meglio conto dell'assetto concorrenziale del mercato soprattutto in considerazione del fatto che la mappatura è fatta nell'ottica di un aggiornamento dei piani di intervento pubblico. Anche su questo tema dell'articolo 22 è estremamente importante l'aumento della velocità di download che è in linea con gli interventi che sono già stati previsti dalla Commissione europea al future proof e cosa altrettanto importante sempre nell'articolo 22 è il meccanismo degli impegni vincolanti. Scusate, la Commissione ha preso alcuni appunti su questioni che ritengo di particolare rilevanza. L'obiettivo è quello naturalmente sugli impegni vincolanti comma 4 bis. Anzi poi vuole mandare una relazione? Certamente, certamente farò in modo che ci sia una relazione completa delle mie parole, naturalmente qui soltanto sintetizzando alcune questioni che riteniamo di particolare rilevanza perché naturalmente sono temi che sono legati alla velocità con la quale si può realizzare l'infrastruttura tecnologica che Infratele chiama da fare come soggetto attuatore. Su questo tema dicevamo, stavo dicendo, questo tema degli impegni vincolanti l'obiettivo è quello di introdurre un meccanismo in base al quale alle informazioni rilasciate da parte degli operatori relative alle pianificazioni delle installazioni viene attribuita la natura di impegno volontariamente assunto. Ora bisogna rafforzare la consistenza delle valutazioni effettuate dall'amministrazione in fase di mappatura ed evitare indebite ritardi, soprattutto gli enti locali che più e più volte interrompono i flussi attraverso i quali vengono rilasciate le autorizzazioni. Il meccanismo sanzionatorio che viene dato dagli operatori è un meccanismo sanzionatorio che leggiamo nella norma sempre nell'articolo 22,2,4 bis e 6 rilevo che la società Infratele, che ripeto soggetto attuatore non è autorizzata a sanzionare gli operatori per i ritardi questo lo può fare soltanto il Ministero e allora riteniamo sia particolarmente opportuno che questa Commissione dedichi molto tempo a determinare quelli che sono gli elementi dei sanzionamenti in modo tale che ci sia una certezza sulle attività che devono essere svolte dagli operatori per evitare che ci siano sanzioni rilasciate in maniera non oggettiva. Vado rapidamente sulle modifiche delle opere dell'articolo 49 per noi particolarmente importanti opere civili, scavi, occupazioni di suolo pubblico nell'atto, nel modello C e D l'allegato 12 bis da parte dell'operatore vengono determinate sull'istanza che viene fatta vengono determinate una sequenza di regole precise e di documenti precise devono essere rilasciati agli enti privati ora spesso accade che gli enti territoriali chiedano documentazione ulteriore rispetto a quella che è prevista da questi due allegati questa è un'interruzione dell'attività che deve essere svolta dagli operatori molto grave perché rallenta i flussi sulla semplificazione così come riteniamo che sia particolarmente importante sempre su questa tematica che venga dato grande sviluppo all'Istituto del Silenzio Assenso per evitare che formulazioni nuove sul Silenzio Assenso possano indurre gli operatori a non avere chiarezza sulle attività e sul tempo che deve essere trascorso. Da ultimo e per non rubare altro tempo rilevo un tema particolarmente importante che sono considerazioni tecnologiche abbiamo rilevato che gli atti più delle volte vengono svolti con precisazioni sulle attività tecnologiche quindi sulle intelligenze requisiti tecnologici che vengono inseriti all'interno degli atti governativi ecco noi riteniamo che avendo sviluppato nel corso di questi anni le grandi modifiche che avvengono intorno ai requisiti tecnologici forse sarebbe opportuno che gli atti non avessero una specificazione precisa visto il cambiamento tecnologico che avviene e con la rapidità con la quale avviene naturalmente tutto questo in linea con gli atti della comunità europea ultimo ma non meno importante non riguarda specificatamente gli atti di cui stiamo trattando ma in considerazione delle necessità di sicurezza che sono legate alla costruzione della rete richiamo questa commissione al tema della regolamentazione del quantum computing abbiamo una tematica molto seria di sicurezza una tematica di sicurezza sulla rete una tematica che avviene principalmente sui problemi legati all'algoritmo di costruzione della sicurezza della cyber sicurezza temiamo che nel lungo andare ci siano problematiche legate al quantum computing quindi invitiamo ad affrontare la tematica parallelamente a quella di questo specifico atto su una regolamentazione specifica del quantum computing per evitare il rischio che ci siano problemi di sicurezza in futuro mi fermerei qui Presidente per non aggravare naturalmente il lavoro di questa commissione che ringrazio e sono a disposizione per qualunque domanda chiedo ai colleghi collega Longi prego grazie Presidente e ringrazio il Presidente Becchetti di Infratel società con la quale già in diverse occasioni sia per il progetto 5G che a bordo della nave Teliri ho avuto appunto modo di conoscere a fondo e sulle quali ci siamo anche con la presenza in presenza del del sottosegretario Butti confrontati su quelli che sono i diversi problemi del settore del settore io appunto ringrazio intanto anticipatamente per la relazione che lei ci consegnerà che sicuramente sarà da supporto per andare ad analizzare articolo per articolo quelli che sono gli input da voi proposti che devono assolutamente andare nella direzione della semplificazione e dell'armonizzazione del codice la ringrazio grazie allora ringrazio Alfredo Maria Becchetti di Infratel Italia per il suo intervento e di che hanno concluso l'audizione grazie e ringrazio il Presidente deve intervenire io sono presente di Infratel Italia io sono presente di Infratel Italia Infratel Italia Infratel Italia Infratel Italia non Fratelli Italia con onorevole la società lei con onorevole caso la società si chiama Infratel Italia S.P.A. non Fratelli d'Italia Infratel Italia nessun problema un nome che è stato attribuito in passato non è venuto oggi si chiama Infratel Italia già da molti anni già dal 2005 si chiama così perfetto grazie 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 arrivederla